blu la casa dei giochi ciao bimbi oggi ho deciso di colorare un bel disegno e guardate chi ho trovato leo il camioncino curioso oh quanto è dolce iniziamo a colorare prendiamo i pennarelli con la punta grande grande sono così divertenti iniziamo con il celeste coloriamo tutto il musetto di leo all'improvviso amore un cuore salto Grazie a tutti. 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 Il giallo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.